È uno dei temi posti al centro dell'attenzione in questa campagna elettorale per il Comune di Arezzo. La disabilità sembra essere un argomento sul quale tante liste e tanti aspiranti sindaci vogliono puntare l'attenzione. Programmi e candidati in questo senso parlano chiaro. D'altra parte, che Arezzo abbia bisogno di una serie riflessione su questo fronte non è cosa nuova. Tante le domande sulle quali occorrerebbe soffermarsi. Questa è una città realmente accessibile a tutti? Arezzo è una città che include o esclude? Non si tratta soltanto di una questione di barriere architettoniche, anche se il problema esiste e non è di facile soluzione. La questione è anche e soprattutto culturale e su questo c'è da lavorare ancora molto. Le discriminazioni che ogni giorno chi vive una disabilità è costretto a subire ad Arezzo come altrove parlano chiaro. Dalle difficoltà di accesso ai servizi pubblici fino al semplice transito in un marciapiede. Se si vuole cambiare su questo punto, lo si può fare soltanto con il contributo di tutti. Il fatto che in campagna elettorale si sia voluto puntare l'attenzione su questi temi non può che essere positivo. L'auspicio è che non si tratti soltanto di un uso strumentale della disabilità, una semplice strategia elettorale per acchiappare qualche voto in più e poi dimenticarsi delle promesse fatte. Ai cittadini il compito di mantenere alta l'attenzione.